Olè ci siamo guys Bam Ma guarda quanto è bello Allora mi spiegate come si fanno i soft reset Perché io non sono in grado Grazie ve sfondo ve sfondo Oddio Boom Tocco Cioè questo vabbè ma dai ma tocco Tocco va in giro con Munchlax Cioè azi ma fammi fa 1v2 Si cioè Giro Pain Ve sfondo ci riesce va Annichilito Bello Giro se siamo visti Allora Che taglia un'altra super a quest'altra Allora Mi avete detto di disattivare l'autosalvataggio Questo cazzo sta l'autosalvataggio Eccolo qua salvataggio automatico no Primo anzi Primo ci metti Luxray che lo paralizzi Dil gaga 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 Shiny subito al primo No Ok mo come se fa Basta Finito Dialgo Vedi un po' che devi fa Mo te spacco A che livello è Dialga 50 sarà A 47 Onesto Suono onda Boom Paralizzato subito Che bei danni che mi hai fatto campioncino Complimenti Scintilla Cos'è super efficace su Dialga? Terra e lotta Terra e lotta Terra e lotta Terra e lotta Che cazzo ma Anzi l'ho paralizzato ma L'ho paralizzato ma non funziona un cazzo Dai un altro mozzico magari tentenna Intanto paralizzato più Più tentenno magari Eh no no non può È rimasta un HP solo per far bella figura Grande Ed è una pozione massima Che eroe Dai lo devi curarsi Se fa una cosa del genere lo devi curarsi Vedi se deve pure ricaricare Ma che cazzo E frega Dai un altro mozzichetto I mozzichetti stanno a funzionare Che levi è giusto Bravo Grande tentennata Un altro mozzico Porca puttana guarda che Sti mozzichi Oh mortacci tua Vabbè mo te faccio morire Ma hai rotto il cazzo però Il mozzico non mi piace Secondo me una scintilla Qui è meglio Levavate meno Oppure un mozzico Una scintilla Fammi vedere quanto Leva la scintilla È giusto Posso fare un altro A scintilla Sì Posso fare un altro A scintilla Sì Non me lo so Questo è un problema Allora forse Se c'è un attacco De merda Ma proprio brutto C'è un attacco Che tu dici in massa Questo Che fa terzo letico Bam Lacerazione con Garchomp Ma che gliele voleva No trust Dai ho crittato Porco due Madonna Anzi Se usciva adesso Regà Regà Se usciva adesso Cioè Era da impazzire Falso finale Mi pare De no Paralizza sto Coglione Allora Tiragli una Pokéball Full vita Per studiare Ok Questo Cazzi con dieci Pokéball Lo famo Oh Vedi Sto paralizzante È più ciotto Mors Bravo Bravi Così Così Cazzo Sì Si gode Qui in altri tre mozziti Comunque Non sta a fancazzo Sì Non sta a fancazzo Sì Fillo come se un altro Morso potrebbe Ucciderlo Facciamo una scintilla È mezzo Bano Ma c'ha un HP Però la scintilla Gli leva di più Quegli HP Non gli posso levare Se prova Se comincia Ok Gli devo levare De più Però Così c'ho Troppa vita Così c'ho Troppa vita Serve levare De più Ha un fame Ha brutto Un fame Ok Stiamo a cominciare A studiare La situazione Sta a cominciare A calmarsi Dentro quelle Dannate Pokéball Non lo sai Abbiamo un bel Un bel catch rate Con le nostre Pokéball Luxray Sembra un po' Giù de morale Luxray Io ti voglio Talmente tanto bene Che decido Di curarti Che secondo me Te lo meriti Perché tanki bene Oh a pezzo di merda Oh ma Luxray È il god Vedi Ma quante Pokéball c'ho 64 Potremmo averci Un problema Ma perché Non ne ho comprate Tre piotte Vedi che serve Le vaglie Più vita Si mi serve Un attacco Stupido Cioè di alga Che Pokémon Che Pokémon è Che Pokémon è A cosa resiste Proprio al 100 2000% A cos'è che resiste Al 2000% Di alga Che dicevo Ma questo Gli fa il solletico Volante Volante Non gli faccio Un cazzo Proprio Zero totale Però c'ho Le mosse volante Troppo forte O forse 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 Neri Assalto Con Pokémon Gli potrebbe Far Non so Si servirebbe Proprio la mossa Quella alla porco Zio Che diceva Ma questa qua Io ho levato Proprio Gli ho fatto Il solletico Al pisellino Gli ho fatto Non so che Era assalto Secondo me Lo squaglio Si L'ho sciotto Secondo me Non lo regge Era assalto Non lo so C'ho come Quell'impressione Erba Eh ma Erba Non ce l'avrò Mai In squadra Ok 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 Pezzo Di merda Tenti Intanto Arriva in questa situazione E' piuttosto Semplice Si prova Un aereo assalto Al limite Seresetta L'accio Erboso Su Empoleon No Piuttosto Mi sgozzo Certo Che potevi Usci Shiny Nel frattempo Cioè Manca a far Così Suono Onda Vai Sai che Dovrei provare Dovrei provare Cambia Pokémon Cioè Tipo Lo paralizzo Cambio Un attimo Faccio Un inverti In inverti Sbronk Gli switcher Pokémon E vediamo Che danni Gli fanno Con altro Pokémon Per capire Se gli elevamo Veramente poco Perché se Proviamo solo Le mosse Su E Inverti Volte Vedete Un po' Bam Via da me Va E gli proviamo A mettere Garchomp Voglio capire Quanto Gli elevo Ma se Gli faccio Un terremoto Dite che È il rischio Shotting Non lo Shotterò Mica Con il terremoto Frate Vabbè Ma è un pippone No dai Lo regge Si Lo deve regge Per fo Fa me Vedete Un attimo Lacerazione Quanto leva Ah E certo Hai Rigrittato Mortacci Tua Ok Garchomp Non sarà più Un problema Nostro Allora Fammi vedere Quanto leva Invece Quella Cazzo De Mossa Volante Zio Vera Porco Due Non leva Un cazzo Ma Vieni a Quetta Va Ok Simpatico Empoleon Fa brutto colpo Per fare Bella figura Con te E certo E' proprio Quello che dovevi Fai Tempo Attacchi Acqua Di sotto Il 50% Di vita Del nemico Tolgono Il doppio Grazie All'abilità Dempoleon Mortacci Quante B ci Hiamo messo Lì Riproviamo 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 Ci metto Lui Il mio Il mio Pokemon Metto Il mio Pokemon Preferito Ragazzi Metto Il mio Dannato Pokemon Preferito Adesso Voglio Vedere Quanto Gli leva Il mio Pokemon Preferito Il grande E l'unico Andum Che verrà Istasquagliato Bravo Andum A me Bel sdrogodenti Bello sdrogodenti No Assi Non t'azzarda Bruciammelo Guarda è morto Hai un po' Hai un po' Adesso Gliene fai una Che tanto Non sta sotto Meta vita Bravo Hai fatto Un altro Brutto Corpo Eri Mortacci Tu E qui Gli vai Solo De Aeroassalti Piano piano Voglio Vedare Sto Coglione Bono Tiriamo Un cazzo L'attacco Aumenta La difesa Aumenta L'attacco Speciale La difesa Speciale Questo potrebbe Essere Ottimo Questo potrebbe Essere Ottimo Fammi un altro Forza antica Per il meme Fammi un altro Paralizzato Ok però Qui guarda Che se andiamo A botte De Aeroassalto Sì Qui se ce ne Incastrava un altro E due Frate Forse Sì Sì C'era un'altra Sì Però Mi sa Mi sa Che c'ha pure Meno vita De prima Non fa brutto colpo Tommazzo Mortacci Su Ha pure Crittato Ha Crittato Meno male Però è buono È stato buono È stato buono Sto crit È stato buono Sto crit Sì Un crit Positivo Mo se può Fa Mo se può Prova Un altro La farei Ma adesso Alzi Mi voglio Tire una Pokéball In testa Ammazzo Settantunesima Pokéball La C71 Lulic Beh bravo Esci Che se no Era già meme Beh Alzi C'ha 2 HP Qui Secondo me Viene Tirinart 35 Comincia A leviasse Il dolore Ma c'ha Il catch rate Del porco Sto fio De una Mignotta Sì Bravo Esatto Senza Pussyball Senza Dannate Pussyball Bam Ok 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 Cominciamo a sentire L'odore Non me rompe Cazzo Ariga Io ve lo dico Se mi fa un'altra Forza antica Gli faccio Gli faccio Un altro Aerossalto Mi faccio Il cucchiaio E come stai Cominci a Sfragolare I coglioni Perché non ti adoperi Dentro la mia Golosa Pokéball È molto calda Si sta tranquilli Nella mia Pokéball È una Pokéball Sublime Vieni dentro La mia Pokéball Te piazza In corpo Forza antica Riga Però non Si è boostato Mi sa che si è boosta Solo una volta No Si è boostato Solo la prima volta Sì Senza boost No mi dispiace Senza boost Non posso E un po' Te voglio bene Ti è È il 10% È infatti Cioè Forza antica È il 10% De possibilità De boostaglie Le stats Ah Allora Secondo me L'ho shot Uguale Allora Brothers Cioè Adesso È proprio Cioè Siamo arrivati Secondo me Più o meno Al cap Cioè Guarda quanto C'ha Quelli da saranno 10 a cap Cioè Come faccio Alle vaglie Pure meno De quello Ormai Tocca Sperà Ormai Tiri e Tiri e Preghi Tiri e Preghi Tiri e Preghi Dai Dialga Io non ti catturerò Mai con quella Merda di Ultra Ball Cioè Capito che Te voglio dire Qui se fanno Solo le cose De classe Solo con le Pokeball Lui è un Pokemon di classe Entrerà dentro La nostra Pokeball Prima di finire Mosse D'ammazzasse Da solo C'entrerà Fidate È un Pokemon Di grande Classe Dai Ti sto a fare Complimenti A pezzo Di me Ti ti Insulta Come Entravano De solito Ricevevano Insulti O Complimenti Insulti Allora Diarga Questa è L'ultima Pokeball Che ti dirò Essendo gentile Dalla prossima Te rosto In continuazione No Sei un coglione Mi stai pure sul cazzo Stai arrabbiato Eeeh Empoleon Un HP Resiste al colpo Per fare bella figura Come mi mette il coricino Che carino Non penso che ti curerò Vai Bravo Empoleon Mamma mia Empoleon Ragazzi Come sta Attancando Un HP Sta schivando Tutto Adesso Dirai Stavoco Che bolla È il nostro Dialga In coglione Ne so scopato La madre L'altro giorno La madre Non gliela Dovevo toccare Lo sapevo io Uno che gli fa paura Uno che ha Mettigli Ergarcio No Ergarcio Non per me viene Gli sta scogliato Mettigli Luxray Va Dialga Infatti Ce la pare Che c'è l'armatura Anzi Ha fatto un'animazione Troppo lunga Questa è in Molto male Questa run Su diamante Questa run Su diamante È stata molto bella Io vado su perla Perché preferisco Palkia Palkia È più bello Palkia È molto più bello Di Dialga Me ne vado proprio Ciao Dialga Sto andando Vado Porco 2 Che pezzo di merda Ma quanto c'ha di catch rate Sto fio De una De una Bardracca No non è vero Dialga è più bello Di Palkia Però lo sai come mi piace Dentro la mia palla Sinistra Martial No Martial No Martial ha rovinato tutto Oh comunque non ci ha fatto neanche Un 1 2 3 Ma io ce l'ho le Pussyball Fammi vedere Ce l'ho una Direi è una Pussyball Vedete se è quella Pussyball Che viene Già stavo a riavviare il gioco Stavo a riavviare il gioco Non ha Non ha fatto Una volta 1 2 3 Non ha fatto Una volta 1 2 3 Con la Pussyball Non è riuscito a farlo Manco una volta Si E a breve Si ammazza Pure da solo Succhiami i coglioni Succhiami i coglioni Succhiami Pezzo di merda Te l'ho detto Che serviva l'esperto Serviva Dov'è? Vedi? 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 Vedi la sventagliata È entrata È entrata Alla terza Dopo che me l'hai detto Is Is Anzi Io Ho una carriera Da 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 Pochebollista Ma infatti Io ho detto Devo subito andare a sentire Il parere di un esperto Sulla situazione Sono venuto subito da te E ha funzionato Il tocco Magico Vabbè Il dialogone Regà è stato preso Dai è così Che vuoi fare con Dialga? Ovviamente va al box Chi so fila? Sto coglione